Oh ma salve appassionati di tecnologia, ben ritrovati con un nuovo video, io sono Raph e voi siete sul canale di Missing Tech, canale dedicato alla tecnologia. Se avete seguito il video pioggia di prodotti Meros, se non l'avete fatto siete delle bruttissime persone quindi andatevelo a rivedere, all'inizio di quel video vi avevo parlato di un progettino che sarei andato a realizzare. Chi più o meno mi segue sui social, in particolare sul mio canale Instagram, sa che mi occupo come blogger di prodotti relativi al cibo gluten free, quindi in particolare appunto essendo celiaco faccio questo da un po' di tempo, sa che ho appunto uno studio che utilizzo per fare queste cose qui, ma mi seguiva uno spazio appunto per andare a amplificare e migliorare un pochettino anche la qualità dei video, visto che insomma diciamo che girare spesso in casa diventa difficile, a meno che appunto non dobbiamo provare qualcosina nello specifico, visto che il canale si occupa appunto di domotiche, quindi di prodotti per la casa, però per farveli vedere in maniera un po' più dettagliata magari c'era bisogno di uno spazio. E visto che ci sono arrivati un pochettino di prodotti ho pensato bene anche con il consiglio di Vincenzo e di Luigi, ma perché non realizzare uno spazio dove magari poter registrare esclusivamente, infatti questo effetto luci che vedete posteriormente è proprio il frutto di questa striscia LED che avete visto nel video dedicato appunto ai prodotti Merus. Quindi con questa striscia LED, ce ne sono arrivate due in particolare, sono andato già a fare la prima parte che questa striscia LED li sono andato a posizionare, anche perché molti dei prodotti che appunto ci arrivano, noi li proviamo veramente, li testiamo e poi ve ne parliamo. Vi faccio vedere subito e immediatamente che cosa c'è in confezione. Tanto vedete la luce che mi sta illuminando in questo momento è proprio la luce della strip LED che abbiamo montato. Giusto per farvi capire la differenza. Alexa spegni strip LED. Alexa accendi strip LED. Allora in confezione abbiamo il manuale, dove appunto fondamentalmente ci dice di accendere la strip LED soltanto dopo averla estesa. Il suo alimentatore, devo dire che anche qui è ben fatto, molto in stile UE di Philips. Poi qui abbiamo il controller con appunto il suo pulsantino per accendere e spegnere. E qui guardate un po', ci sono i sei pin, quindi esattamente come le prime citate UE. Qui il connettore per andare ad alimentare le strisce. Qui dentro, oltre che appunto abbiamo un po' di biadesivi che possiamo andare a mettere qui sul controller per fissare l'armuro, con anche una serie di adattatori ed un connettore. Nel momento in cui appunto tagliamo la striscia LED e vogliamo andarla magari a ripristinarla, possiamo farla attraverso questo ponticello, questo connettore qui che va di nuovo a riunire la striscia LED. La striscia LED è diversa dalle altre, quindi magari va bene proprio per essere inserita in una canalina, deve essere inserita in queste tipologie di lavori, proprio perché non è di quelle lì siliconate, quindi è abbastanza flessibile come striscia LED. Ovviamente avete tutte quante le gradazioni di colore, quindi possiamo andare dal bianco caldo al bianco freddo, fino diciamo ai vari gradi Kelvin, quindi partiamo da un 2004 fino ad arrivare a un 6000 circa più o meno, e poi ovviamente tutti quanti i colori. Adesso non ricordo nello specifico quanti LED ci sono per metro, però se non ricordo male abbiamo circa 24 LED per metro, oltre diciamo appunto dobbiamo andare ad aggiungere poi 24 di quelli lì che fanno la luce bianca calda, altri 24 quelli lì che fanno la luce fredda, quindi voi ovviamente dovete moltiplicare per tre per avere la densità di luce che si vanno a miscelare, per avere il colore desiderato nella gradazione desiderata. Questo è ciò che concerne la striscia LED. Adesso ve la faccio vedere accesa, perché qui appunto abbiamo il connettore, lo andiamo a inserire da questa parte, con i suoi pin, c'è una freccia, ecco qui, quando lampeggia ci dice che può essere abbinata, e poi attraverso l'utilizzo dell'app la andiamo ad abbinare. Se non vogliamo utilizzare comunque i comandi vocali o l'app, ve lo faccio vedere, attraverso questo pulsante possiamo spegnere e accendere. Mentre invece per andare ad accendere e spegnere le luci frontali, appunto le luci qui della sala dove andrò a registrare, avevo bisogno di due attuatori, tipo appunto questi qua. in particolare ci siamo detti, visto che Luigi adotta spesso gli Shelly, Vincenzo utilizza spesso i Sonoff, ma proviamone qualcuno che sia compatibile e nativo per Apple HomeKit. E appunto in particolare questi qui sono degli smart wifi in wall switch, quindi sono praticamente degli attuatori che vanno ad inserirsi direttamente nelle cassettine. Adesso ci sono dei pro, ci sono dei contro, noi li andiamo ad installare così li vediamo insieme. Quindi apriamolo così vediamo anche che cosa c'è all'interno, perché c'è una ricca dotazione. Questo qui l'abbiamo già aperto e installato. Troviamo l'attuatore con il codice QR per essere poi attivato in Apple HomeKit. e qui guardate ha soltanto questi quattro ingressi, ma tra pochissimo poi vediamo anche questo aspetto qui. In confezione abbiamo tre cavetti, uno blu, uno marrone e uno nero. E poi ancora un piccolo libricino delle istruzioni. Benissimo, avete visto il contenuto presente in questa confezione, ma grazie ai nostri effetti speciali avremo il tecnico che ci farà l'installazione, ci farà vedere direttamente sul banco. Abbiamo qui con noi il signor Vincenzo. Grazie, grazie, grazie Raffaele di avermi declassato a semplice tecnico, almeno il professore, non lo so, qualche appellativo un pochino. Che facciamo? La rifacciamo? La lasciamo così? Perché? Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vedete, di che parliamo oggi? Stiamo parlando di questi prodotti Meros. Di queste scatoline per cui non roma le scatole. Eccola qua, l'attuatore domotico, l'attuatore domotico Wi-Fi, è sempre lo stesso argomento, si staranno annoiando. Mai che parliamo un po' di cibo, non lo so. Faremo anche quello. Faremo anche quello. Per adesso accontentiamoci, dai. Tu che hai fatto l'unboxing, l'hai trovato... La confezione è molto ricca, ci sono almeno, diciamo, avendo visto i video degli altri che hai presentato sul canale, qui ci dà un po' di cavetti, ci dà un po' di istruzione, anche se come ho detto, tu mi hai fatto notare che, diciamo, il cablaggio non è proprio esatto. Lo schema, lo schema. Sì, poi lo andiamo a vedere da vicino. Io, non lo so, sono rimasto un pochino così quando ho visto lo schermino di cablaggio sul manualetto. Adesso andiamo a vedere perché. Ebbene, abbiamo dato il titolo a questo video. Shelley, Sonoff, Meros. Esatto. Tra i due litiganti, Meros gode. Gode, Meros. Andiamo a vedere se gode. Allora, ci trasferiamo sul banco così Vincenzo ci fa vedere tutto il cablaggio e l'installazione, così lo proviamo. Sì, però vi dobbiamo svelare un retroscena, perché noi abbiamo fatto già un test nei giorni scorsi. Sono volate scintille, ma nel vero senso della parola. Però poi mi aveva dato un ultimetro, non so di che razza, e a un certo punto c'è stata una fiammata. Vabbè, peccato che le telecamere erano spente, non possiamo mostrarvela, però dai, fa parte anche questo del gioco. Andiamo, 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 seguiti. Trasferiamoci. Allora, siamo qui direttamente sul banco. Abbiamo schiarizzato il nostro direttore. Orwa. E andiamo a vedere il cablaggio. Bene, 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 ragazzi. Abbiamo qui il nostro attuatore. Come vediamo, c'è una morsettiera, dove ci sono alcune indicazioni. È abbastanza simile agli attuatori domotici che siamo abituati, insomma, che chi è appassionato e segue questo canale assiduamente, sicuramente troverà delle affinità con gli altri attuatori Wi-Fi che abbiamo già recensito anche di altre marche. Abbiamo il classico L ed N, quindi fase è neutro per l'alimentazione su questi due morsetti. Poi abbiamo l'L Out, e poi abbiamo l'S1, quindi lo switch, il morsetto per l'interruttore. Interruttore, non so se è anche il pulsante, questo poi andremo a vedere nell'app, se è possibile scegliere anche di utilizzare un pulsante o solamente un interruttore. Con l'interruttore già abbiamo fatto dei test, funziona di sicuro. Bene, qui abbiamo il nostro interruttore e qui abbiamo la mitica morsettiera di distribuzione che non piace a tutti, ma questa ho. Abbiamo la nostra fase è neutro che entrano in questo morsetto e quindi poi abbiamo i neutri e le fasi, insomma, dove ci sono i ponticelli scuri, prendiamo la fase, dove ci sono i ponticelli blu, prendiamo il neutro e poi lo andremo a collegare. Bene, perché vi dicevo durante nelle riprese, insomma, che abbiamo fatto poc'anzi, che sono rimasto un pochino perplesso quando ho visto lo schema di cui ci parla lo schema sul manualetto Meros, perché lui dice correttamente di alimentare con L e N, quindi fase è neutro, però poi l'S1 dà naturalmente l'interruzione con l'interruttore e quindi è giusto, gli arriva la fase e sollecita lo switch 1, però poi stranamente in uscita su L1 mette un cavetto di colore blu che sta a indicare di solito il neutro, mentre di solito questi attuatori, e comunque dai test che noi abbiamo fatto, esce la fase, esce la fase come è corretto che sia, perché L è la fase in ingresso e L1 è la fase in uscita, anche se lui lo chiama L1. Bene, non lo so perché l'hanno fatto così, secondo me c'è un errore, quindi schemino bocciato da parte di Meros, quindi andiamo a rifare noi i collegamenti da capo. L1 è la fase in ingresso, Allora, ed eccoci qua, andiamo a riassumere i collegamenti che servono anche a me per capire se ho fatto tutto correttamente, quindi alimentazione, abbiamo mandato fase e neutro, correttamente, poi uscita fase, e quindi il marrone che va al portalampada e quindi alla lampadina, il neutro che va direttamente alla lampadina, e poi la fase che entra nell'interruttore, viene interrotta, e poi ritorna qui su S1, quindi penso che abbiamo fatto tutto correttamente, proviamo a dare corrente al tutto. Ok, vedete che risulta già accesa la lampadina, ecco qui, già con l'interruttore funziona, senza averlo ancora collegato a internet, senza averlo ancora collegato al nostro wifi, quindi modalità interruttore, già funzionante, così com'è. Ora andremo a fare velocemente una prova, anche configurando l'applicazione Meros, e poi magari lo integreremo anche all'interno di HomeKit e qualche altro test. Ok, perfetto, allora andiamo ad integrare l'attuatore nell'app di Meros, facendo più, qui ci dice un po' tutti quanti, tutta la linea di prodotti, gli dobbiamo dire in questo caso dove sta, interruttore intelligente sarà questo, eccolo qui, prosegui, iniziamo, ecco qua, questo forse è un passaggio che, una guida, che forse potevamo vedere prima, vedi, magari forse un po' più chiare di quelle delle istruzioni, andiamo avanti perché questo l'abbiamo tutto quanto già fatto, inquadriamo il codice, allora un beep sonoro ci dice che è stato abbinato, lo lasciamo così col nome smart switch, gli diciamo che è una luce, che andrà a comandare una luce, qui ci sono tutte quante le automazioni che possiamo andare a controllare, fatto, e lo troveremo all'interno, guardate c'è anche l'altro che avevamo già installato, troveremo, quindi attraverso l'applicazione possiamo poi andare a spegnere, o ad accendere, e ovviamente poi sarà integrato anche all'interno dell'app casa, ok rieccoci qui, eccoci qui tornati, tornati dalla regia, dal nostro banco di lavoro di Bufa, ma la FEP che è fino a FEP, me la so dimenticata, me la so dimenticata a casa, nascendo la bellissima FEP nuova di Missing Tech, ci abbiamo pure le FEP, ci permettiamo addirittura anche le FEP, bene bene, quindi go the Marros, ce l'avevamo lasciati con questa domanda, go de a metà, go de a metà, perché sicuramente qualche arco, ha qualche freccia al suo arco, qualche arco alla sua freccia, stavo dicendo al contrario, qualche freccia al suo arco ce l'ha, per esempio, rispetto a insomma i più blasonati Sonoff e Shelly, ha il supporto nativo a HomeKit, una cosa che sicuramente fregherà nulla a Luigi Ducchi, invece ha tantissimo piacere al nostro RAF, e quindi magari se qualcuno è amante del mondo Apple, può trovare interessante e valutare l'acquisto di questi switch da incasso, per domotizzare punti luce, punti luce, perché non so se l'abbiamo detto, ma forse non l'avevamo ancora detto, supportano un carico massimo di 400 Watt, quindi possiamo dire che sono dedicati solamente alla gestione dei punti luce, quindi non sognatevi di poter attaccare il forno al micronone, della lavatrice, o qualcosa di questo genere, a questi smart tool switch, per la verità io non li collegherei carichi così importanti, neanche sull'iscelle e sui Sonoff, però è dichiarato massimo per 400 Watt, quindi punti luce. Pensando di domotizzare una casa interamente con Merus in questo caso, non è proprio consigliabile di fronte a uno switch da incasso ad un solo canale, quindi voi sapete bene insomma che domotizzare un appartamento pone esigenze anche di diverso tipo, per esempio l'automazione, l'automatizzazione, la domotizzazione delle tapparelle, dove è consigliato il doppio canale, è necessario il doppio canale, uno per gestire il motore che sale, uno per gestire il motore che scende, quindi non si avrebbero prodotti Merus almeno in Italia, non sono commercializzati, anche se su questo attuatore poi vedo la predisposizione per una morsettiera un pochino più grande, ma questo che è in commercio, è acquistabile in Italia, è solamente ad un canale. Poi diciamo l'altro aspetto negativo, così è un po' la grandezza del prodotto, non è l'ordine di misura di uno Shelly 1? Forse è anche un pelino più grande, comunque non è grandissimo, non è enorme, ma non è anche tra gli attuatori più piccoli che abbiamo visto. Un altro problema, l'avevamo detto in fase di test, insomma di connessione di cavi, cioè avremmo verificato se era possibile collegare anche un pulsante, dall'applicazione non trovo alcuna configurazione per cambiare l'impostazione da interruttore a pulsante, e anche dal manuale utente, insomma si parla sempre e solo di interruttori, quindi penso proprio che sia possibile utilizzare su S1 solamente un interruttore, non un pulsante, quindi ci sono un pochino di limiti, quindi gode, gode Meros tra i due litiganti, ma gode, gode un pelino, un pelino, dai siamo sulla strada buona, però utile per altri un po' meno funzionale. Bene, 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 Raffo, io direi che hai detto tutto, anzi grazie per essermi venuti in soccorso, ma soprattutto adesso comincerà la vera installazione, quindi Vincenzo me le mette direttamente in cassetta, così io pian piano finisco il lavoro di cui vi dicevo inizialmente, e quindi il settaggio di questo nuovo studio che state vedendo, che pian piano, pian piano nel corso del tempo, poi durante gli altri video, prenderà forma, anzi se avete dei suggerimenti, scrivetecelo qui sotto nei commenti, come sempre invitiamo tutti quanti a iscriversi al canale, se non l'avete fatto, l'abbiamo già detto in apertura di questo video, se lo fate siete dei grandi, se non lo fate siete bruttissime persone, Vincenzo ci rimane male, intanto ringraziamo per i 35 mila iscritti, perché siamo arrivati a 35 mila, e chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto? A 50 mila facciamo una grigliata live, quindi se questo canale arriva nel giro di poco a 50 mila iscritti, facciamo una grigliata live da casa di Vincenzo. E vi dispiace però che non potranno sentire né il profumo e né il sapore della grigliata, fate le grigliate miciriali qui. Bene, bene, bene ragazzi, è veramente tutto da Matera, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento al prossimo video, io faccio il raffo adesso, vengo a mettere la mano lì sull'aereo, voglio fare il raffo per una volta, ciao, 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 ciao.